La carenza di medici di base è sempre più marcata nel biellese. Si fa sentire sempre di più la mancanza di giovani che scelgono di specializzarsi in medicina generale. Così il numero dei medici di famiglia cala di anno in anno, tra pensionamenti e trasferimenti. Nel biellese una decina di anni fa erano 126 i medici in forza, nel 2015 124, nel 2018 122, ora sono 101. Chi resta per ora prende in carico gli assistiti rimasti senza medico, ma il carico di lavoro aumenta e non si potrà andare avanti così a lungo. I residenti senza medico di famiglia in Valle di Mosso sono ormai centinaia. A febbraio, inoltre, andrà in pensione un altro dottore. L'asle di Biella, da parte sua, ha cercato di colmare il vuoto mettendo a disposizione un numero telefonico al quale i pazienti senza medico possono rivolgersi per visite e ricette. In più, a titolo volontario, è possibile per i medici in forza aumentare il numero dei propri assistiti fino a 1800 con una misura siglata qualche tempo fa dall'assessore alla sanità Icardi. Ma sono pochi coloro che decideranno di aderire. Così ha sottolineato anche il dottor Sergio Di Bella. Quello che sta succedendo è che abbiamo annunciato da circa 15 anni come federazione e quello della forbice tra i pensionamenti e i nuovi ingressi, che si fa via via allargando. Questo sta comportando, Biella, la prima provincia in Piemonte, quella purtroppo messa peggio, sta comportando una progressiva carenza. Basti dire che nell'ultimo mese sono andati in pensione altri tre medici di famiglia e in questo momento siamo a quota meno 21. Questo ha fatto sì che si rendesse necessario un accordo tra le parti, quindi tra i medici di famiglia e la Regione. In realtà la possibilità di aumentare fino a 1800 assistiti dal massimale precedente, che era 1500, solo per un periodo di tempo però limitato, è lasciata comunque alla facoltà, alla disponibilità del medico di famiglia. Perché ci sono colleghi che hanno 4-5 ambulatori in sedi disagiate montane, loro difficilmente riuscirebbero a assorbire una quota così rilevante di pazienti in più. L'accordo prevede anche altri due o tre meccanismi, per esempio la possibilità per i nostri specializzanti, quindi i medici in formazione, in medicina generale, di acquisire anziché 500, 650 assistiti. Questo un po' di qua, un po' di là permetterà un po' di tamponare la situazione. La Slibiella inoltre sta cercando di trovare una soluzione con dei servizi alla popolazione che possono comunque tamponare questa situazione che si va via creando.